Buongiorno a tutti, oggi impareremo a disegnare il canone di Policleto. Il canone, che in greco significa regola, è un trattato sulle proporzioni dell'anatomia umana scritta dallo scultore Policleto verso 450 a.C. È considerato il primo trattato che teorizza i temi della bellezza e dell'armonia. Con Policleto e il suo canone, l'arte greca entra nel culmine artistico di equilibrio e razionalità definito classico. Durante la realizzazione del doriforo, Policleto avviò una serie di misurazioni sugli individui alla ricerca delle proporzioni dei rapporti numerici ideali del corpo umano. Riportò le sue scoperte e teorie nel canone, in cui definì una serie di regole per la rappresentazione della figura virile, eretta e nuda. Il canone di Policleto riscosse molto successo nel mondo greco, poiché risolveva i principali problemi della statuaria greca. Altri artisti, come Mirone, cercarono prima di lui di creare statue con perfette proporzioni e con movimento naturale, ma non riuscirono mai a unire le due cose. Le sue opere hanno uno stile armonioso, uno studiattento dell'anatomia e perfezione delle proporzioni, regolata dal suo canone, in cui l'intero corpo è uguale a otto volte la testa. Il suo capolavoro è il doriforo, cioè portatore di lancia, noto a noi attraverso più copie. È nudo e stante, in piedi, con una gamba leggermente arretrata. Nel doriforo, ad esempio, la testa del soggetto è un ottavo dell'altezza, il tre ottavi il busto e quattro ottavi le gambe. Come vediamo, ad esempio, l'ombelico cade esattamente a un numero di tre teste dall'alto. Il trattato, però, non si limitava a fornire un metodo matematico per la creazione di oggetti d'arte, ma cercava anche di trovare una sintassi che conferisse ritmo ed equilibrio all'immagine. Scrisse Plinio, nella Naturalis Historia, che le statue di Policletto erano quadrate quasi secondo un unico modello. A partire da questa eccezione negativa, si è cercato di risalire al consiglio e di creare opere dal ritmo incrociato considerando la posizione di spalle di anche, determinando una leggera torsione della figura. Questo rapporto incrociato si chiama chiasmo. In opere come il doriforo si notano infatti le rispondenze tra braccio destro e gamba sinistra, braccio sinistro e gamba destra, ora alternativamente rilassati o in tensione, che generano un ritmo incrociato che ricorda la lettera X. Ecco, adesso proviamo noi a disegnare i canoni di Policletto. Usiamo quest'immagine che vedete di fianco come immagine di riferimento. Adesso prendiamo un foglio da disegno, va benissimo anche il foglio di una fotocopiatrice, e dobbiamo disegnare su questo foglio una griglia di 8 per 5 quadretti e ogni quadretto al lato di 3 centimetri. Per centrare esattamente la griglia sul foglio dobbiamo utilizzare il metodo delle diagonali. Quindi, vedete, io vi ho lasciato il centrino rosso per indicare il centro del foglio. Questo centrino cade esattamente verticalmente al quarto quadretto, mentre orizzontalmente alla metà del secondo quadretto. Ripassiamo adesso la griglia con una penna nera dalla punta fine. Io ho usato una punta 0,4, però voi potete benissimo usare una penna sfera. e riprendendo la matita, la cabbia ad esempio, possiamo iniziare a disegnare alcuni particolari della figura di riferimento. Io ho iniziato dai particolari che sono tangenti alla griglia di riferimento, ad esempio la mano, ad esempio il viso, ad esempio il braccio piegato, ad esempio la punta dei piedi. Adesso lavoriamo seguendo ogni singolo quadretto e riportiamo ogni particolare dell'anatomia del doriforo nella nostra griglia. A questo punto ripassiamo con una matita colorata, io ho usato il marrone e il contorno della figura, e poi con un altro pastello cerchiamo di colorare l'intero corpo del doriforo. a questo punto ripassiamo di colorare l'anatomia del doriforo. A questo punto ripassiamo di colorare l'anatomia del doriforo. a questo punto ripassiamo di colorare l'anatomia del doriforo.